Dopo due stagioni agonistiche mutilate dalla pandemia, la Pesaro Rugby riparte inserendo in organico una figura di competenze con poche uguali nel panorama della palla ovale europea. Si tratta di Nick Scott, inglese della Sherwood Forest, che per anni è stato niente meno che il formatore responsabile degli allenatori della Federazione Britannica. Dopo l'esperienza in patria, Scott ha ora scelto di crescere la formazione dei tecnici del rugby italiano, prima a Colorno per poi avvicinarsi al mondo della Pesaro Rugby attraverso il progetto educativo Ragbol volto a contrastare il bullismo, un progetto che ha fatto da ponte a uno suo ingresso nella società giallorossa. Abbiamo colto l'occasione di questa forzata pausa per riflettere su quello che ci serviva di più per continuare a crescere e far crescere i nostri ragazzi, i nostri tecnici, eccetera. La figura di Nick è una di quelle più indicate per un percorso di questo tipo. Nick non è un allenatore, ma è un allenatore di allenatori. Ha lavorato per tanti anni, per una decina dei quali è stato a capo della Federazione Inglese del settore tecnico degli allenatori e credo che abbia tutti i requisiti per esserci di grande aiuto nel lavoro che dovremo fare nei prossimi tre anni. Nick Scott in conferenza stampa ha detto che bisogna allenare le persone prima dei giocatori e la cultura e la comprensione del gioco arrivano prima della performance. E questa è la filosofia inglese che trasferirà anche a Pesaro. Abbiamo lavorato di questo in Inghilterra tante volte e secondo me è per cresciute le persone importanti di allenatori, in courage, creatività, adaptabilità, resilienza, decision making e auto-organizzazione in ogni giocatore. In rugby abbiamo un'opportunità di crescere questo durante la nostra partita, durante i nostri allenamenti. è molto importante per me. È qualcosa che abbiamo da esplorare in Inghilterra, non le parole di me, le parole del World Economic Forum, per l'employabilità di ogni giovane. È molto importante che il rugby ha preso queste opportunità per crescere le persone. Il mio impegno, il mio lavoro è aiutare ogni allenatore a crescere questi valori, queste cose in ogni giocatore. Pesaro Rugby è contentissimo di averla qui a Pesaro, ma abbiamo intuito che anche da parte sua il passare da Colorno a Pesaro è comunque un bel passare. Due realità diverse. Mi piace la cucina di Parma, di Colorno, è fantastico, colatello, tutte le cose parmigiano, tutte le cose di Food Valley, ma adesso per me è un tempo per una realità diversa. al mare mi piace molto molto seafood, mi piace molto spiaggia e vorrei imparare un modo di vita diverso per me. Nick Scott in Inghilterra ha formato tecnicamente anche Nicola Mazzucato, ultimo allenatore di una Pesaro Rugby, che riparte dopo una faticosa stagione agonistica 2020-2021 cancellata dal Covid-19. È stato complicatissimo, non solo per noi a Pesaro, ma per tutta l'Italia regbistica, per tutta l'Italia dello sport dilettantistico. Noi avevamo la fortuna di essere inquadrati tra lo sport di alto livello e quindi c'era questa possibilità di continuare ad allenarsi sul piano individuale. E per fortuna, anche con la grande capacità dei nostri dirigenti, accompagnatori, team manager, siamo riusciti a tenere in piedi un livello di allenamento molto qualificato che non ha fatto scemare la motivazione dei ragazzi a frequentare l'impianto, sia dal punto di vista fisico-atletico per la parte della preparazione atletica che da quello tecnico-tattico in campo con gli allenatori. Siamo riusciti ad arrivare fino alla fine di giugno, adesso abbiamo iniziato una pausa prima di riprendere il pre-season dopo Ferragosto. Grazie a tutti.